Qualità allo stato puro. Con Epson EMP TV 1000, la reale alta definizione a 1080 pixel è finalmente a casa tua, sul grande schermo. Puoi così apprezzare a pieno la qualità offerta da dispositivi Blu-ray, DVD HD, console videogiochi o canali televisivi in alta definizione. E hai la libertà di scegliere il tipo di connessione, inclusa l'HDMI 1.3, la posizione del video proiettore, anche decentrata, e la modalità colore che più si adatta alle condizioni di luce della stanza. Grazie all'innovativa tecnologia 3LCD ed Epson Crystal Clear Fine, Epson EMP TV 1000 proietta immagini definite. Con colori intensi e neri profondi. Per vivere l'esperienza del vero cinema tra le mura di casa. Con l'eccezionale contrasto di 12.000 a 1, la luminosità di 1200 luminanzi, e le nuove lenti ad alta tecnologia, la nitidezza e l'intensità delle immagini ti travolgono. Prova l'emozione della vera alta definizione, sul grande schermo con Epson Epson EMP TV 1000